Ilma Afklint e Emma Kunz, la coscienza spirituale nell'arte delle donne. Da diverso tempo come scuola delle donne stiamo mettendo in risalto il fatto che note autrici ed educatrici siano appartenute a movimenti spirituali ed esoterici su cui la cultura patriarcale preferisce glissare come se raccontarlo fosse imbarazzante. A noi sembra al contrario un plus che arricchisce ancora di più il lascito di queste grandi antenate. Sappiamo che Johanna Spiri, Lucy Maud Montgomery e Pamela Lyndon Travers, creatrici rispettivamente delle amatissime Heidi, Anna dai Capelli Rossi e Mary Poppins, oltre a Catherine Mansfield, Frances Hudson Burnett, Astrid Lindgren e la stessa Maria Montessori, seguivano scuole e discipline esoteriche che spaziavano dalla teosofia all'antroposofia, dalla meditazione alla cabala. La coscienza istintivamente spirituale delle donne che per natura vanno oltre l'ovvio e il visibile, unita allo studio cosciente della materia esoterica, danno come prodotto un'arte più profonda, nutriente e coinvolgente, pedagogica e genetica, qualunque sia l'espressione artistica scelta. In questo video racconteremo altre due straordinarie antenate la cui arte sgorgava dai mondi invisibili coscientemente indagati, la svedese Hilma Afklint e la svizzera Emma Kunz. Hilma nacque in Svezia nel 1862 in una famiglia agiata. I genitori assecondarono il suo talento iscrivendola al Politecnico di Stoccolma e poi all'Accademia di Belle Arti, una delle poche che accettavano le donne. Divenne una professionista in quella prima generazione di pittrici europee che allestivano mostre e vivevano del loro lavoro. Il suo incontro con lo spiritismo avvenne in seguito alla morte della sorellina di dieci anni, fatto che la sconvolse e la spinse a indagare sulla vita dopo la morte. Hilma, contemporanea di Maria Montessori, fu come lei teosofa e più tardi antroposofa. La sua vera visione artistica cominciò a svilupparla dipingendo i messaggi che riceveva canalizzando altre dimensioni. Una forma di arte che tentava di mostrare ciò che c'è al di là dell'illusione sensoriale, la manifestazione visuale dell'universo spirituale che lei frequentava parallelamente alla sua vita ordinaria. In quegli anni furono scoperti i raggi X e le onde elettromagnetiche che potevano trasmettere informazioni attraverso il vuoto. Il labile confine tra scienza e occultismo incoraggiò Hilma a concludere che esistessero mondi paralleli invisibili. Pioniera dell'astrattismo, Hilma già nel 1906 creava composizioni geometriche piene di colore, totalmente astratte e inedite per l'epoca. Composizioni che la storia dell'arte patriarcale farà partire ufficialmente un ventennio dopo con i pittori Mondrian, Kandinsky e Malevich. Hilma era donna e ha dovuto subire la negazione storica che subiscono tutte le donne nel nostro sistema androcentrico. Nelle sue enormi tele, grandi quanto pareti, Hilma propose la possibilità visiva di unire i due poli della dualità basandosi sulle strutture geometriche della natura che conosceva bene fin da bambina, grazie ai libri del papà matematico. E' arrivare a quell'universo di pace, armonia e salute che solo risiede nella frequenza unitaria raggiungibile col cammino spirituale. Secondo le sue stesse parole cercava una immagine primigenia che riunisca tutti gli opposti in una sola unità dalla quale tutto ha origine. Un desiderio questo che fa parte della visione matrifocale arcaica e che alberga nelle cellule di ogni donna in attesa di essere risvegliato. Quando lasciò il corpo a 81 anni, Hilma godeva di una certa reputazione artistica in Stoccolma grazie ai suoi dipinti normali, ovvero paesaggi e ritratti che con impeccabile tecnica verista dipingeva nella sua vita ordinaria per mantenersi. Le tele surrealiste, più di mille, tra dipinti, disegni, senza contare i diari con le annotazioni delle sue visioni, invece, sono tutt'altra faccenda. Le dipingeva di nascosto e nascoste restarono fino a 40 anni dopo la sua dipartita. Aveva lasciato come disposizione testamentaria che non fossero presentate prima di vent'anni dopo la sua uscita dal corpo, ma poiché l'ultimo nipote che le ebbe in carico se ne andò prima dei vent'anni richiesti, rimasero nascoste e dimenticate per il doppio del tempo. Nell'estate del 1986, un contadino svedese riscattò la sua casa di campagna abbandonata dall'ultimo inquilino. Nella cantina trovò, coperte di polvere, enormi scatole di legno contenenti 1200 quadri, alcuni anche molto grandi, con figure geometriche di colori intensi. Fu avvisato il Museo d'Arte di Stoccolma che inviò dei funzionari a portar via le scatole. E alcune settimane dopo fu resa pubblica la sconcertante scoperta. Si trattava di più di mille dipinti, disegni e saggi teorici di matrice totalmente astratta, anticipatrice dell'astrattismo e del surrealismo, ufficialmente riconosciuti a metà del ventesimo secolo, firmati Hilma Clint e datati negli ultimi anni del diciannovesimo secolo, inizi del ventesimo. Tornando a Hilma, insieme a quattro compagni di corso, alla conclusione del quinquennio di Accademia, fondò un club detto Defem, le Cinque, per praticare studi spirituali e applicarli all'arte. Era il 1887 e Hilma aveva 25 anni. L'incontro si svolgeva ogni venerdì ed era dedicato a contattare esseri non incarnati che trasmettevano alle ragazze insegnamenti spirituali, di cui esse riempivano interi quaderni. Inizialmente le Cinque usavano tecniche più tradizionali, come quella del bicchiere, poi cominciarono a canalizzare con la meditazione, la scrittura automatica e infine la pittura automatica, ovvero libera di seguire gli impulsi del momento provenienti da altre dimensioni. Questo diede vita a splendidi disegni collettivi, tecnica che mezzo secolo dopo fu largamente usata nel movimento surrealista. Per prepararsi all'incontro con gli esseri spirituali, le ragazze preparavano un piccolo altare con simboli per lo più cristiani e a turno una di loro faceva da tramite tra le due dimensioni. Anche noi della Scuola delle Donne, quando sediamo in cerchio per incontrare in meditazione le venerabili antenate di cui poi vi raccontiamo la storia, allestiamo al centro del nostro cerchio un piccolo altare dedicato alla sorellanza. Ma il nostro pensiero riguardo all'essere in contatto con presunti maestri invisibili non concorda con quello di Hilma. Con una visione più vicina alla fisica quantica, noi della Scuola delle Donne riteniamo che ogni forma di conoscenza sia già depositata dentro di noi e che sia possibile contattarla attraverso la meditazione o altre tecniche che ci possano porre in collegamento con la nostra natura divina omnipervadente. Tuttavia, qualunque nome si voglia attribuire a questo sapere, il risultato non cambia. Per noi, le nostre maestre sono le grandi donne dell'umanità di cui tuttavia abbiamo conservato l'insegnamento nelle nostre memorie cellulari pronte ad essere risvegliate. Le informazioni che arrivavano alle cinque artiste in canalizzazione specificavano che i disegni rappresentavano onde caricate di energia eterica. Gli incontri proseguirono per venti anni durante i quali fu prodotta una ingente quantità di opere. Hilma dipinse una nutrita serie di quelle che lei chiamò pitture del tempio le quali, sosteneva, venivano realizzate sotto l'influsso di una entità che dipingeva al suo posto servendosi della sua mano. Le opere non erano fatte per essere viste ma solo per essere archiviate come documentazione. Nel frattempo Hilma continuava a condurre la sua doppia vita di paesaggista tradizionale per la buona borghesia stoccolmese grazie alla quale manteneva se stessa e la mamma cieca. Nel 1914, per la prima volta, Kandinsky espose i suoi lavori a Malmö rivendicando a sé la genesi dello stile astratto. Niente di più falso, anche se nessuno lo sapeva, Hilma dipingeva tele astratte già da quasi trent'anni. Alla serie del tempio seguirono altre serie, tra cui il cigno, in cui l'artista, molti anni prima di Hescher, sviluppa la sua idea visiva per rappresentare che tutto è uno, al di là dell'apparente dicotomia dualista della realtà sensoriale. L'artista sosteneva che i simboli sono porte di ingresso alle altre dimensioni. I simboli da lei usati erano la conchiglia a spirale che rappresentava l'evoluzione, la V era la materia, la U lo spirito. La mandorla o vishica piscis, ricavata dalla sovrapposizione di due cerchi, era l'unità, il cigno, l'etere, la colomba, l'amore, il triangolo con la punta in alto, l'ascensione dello spirito, il triangolo con la punta in basso, la discesa dello spirito nel mondo materiale. Quando sua madre lasciò il corpo, Hilma cominciò a viaggiare. Fu in Norvegia e poi in Svizzera, dove contattò Steiner e si unì alla società antroposofica. Fra il 1921 e il 1930, la sessantenne Hilma trascorse lunghi periodi di studio a Dornach, sede della società antroposofica, ma Steiner non colse il genio creativo della sua arte e mise in dubbio che i suoi disegni fossero davvero frutto di canalizzazione. Hilma entrò in uno stato depressivo che durò un decennio, dieci lunghi anni durante i quali smise di dipingere. Rimase comunque a studiare in Svizzera, dove in quel momento c'era molto fermento spirituale ed esoterico. La comunità spirituale del Monte Verità, in Ascona, che aveva ospitato donne del calibro di Isadora Duncan, Frida von Richthofen, Catherine Mansfield, aveva lasciato un'impronta indelebile nella terra ticinese e in tutta Europa. A Zurigo Emma Kunz, che vedremo dopo, creava disegni terapeutici con il pendolo e curava le persone con la roccia polverizzata che lei aveva ribattezzato Anion A. E Maria Montessori, contemporanea di Hilma, teneva a Ginevra le sue conferenze sulla educazione alla pace. In tanto fermento, Hilma riprese a dipingere, ma questa volta non più contattando i maestri, bensì tornando al suo primo amore, la natura nella quale riprese a cercare l'infinito. Nonostante la meraviglia visiva e la chiara visione metafisica che ha ispirato le enormi tele di Hilma, le esposizioni che l'hanno ospitata dal 2000 in poi non le hanno tributato il giusto merito. La dichiarata origine spirituale dei suoi dipinti fa sì che la cosiddetta comunità artistica non prenda sul serio il suo lavoro, al contrario di quanto sarebbe successo, forse, se questa informazione fosse rimasta nascosta. Gli altri pittori astratti, Mondrian, Malevich e Kandinsky, oltre ad avere il vantaggio di essere uomini, non affermarono mai di essere in contatto con entità invisibili a influenzare il loro processo creativo e dunque loro sì furono presi sul serio. Una ulteriore prova del doppio pregiudizio con cui si devono confrontare le donne quando sono artiste e ricercatrici spirituali. Ne furono bersaglio altre grandissime antenate come Catherine Mansfield o Pamela Lyndon Travers. Insomma, persiste la comoda e rassicurante spaccatura tra il mondo dello spirito, che è una faccenda della sola chiesa, e il mondo della materia pertinente alla comunità laica. Si continua a mantenere in essere una divisione forzosa che consente di controllare e indebolire l'umanità, mantenendo separate due nature che, se unificate, comporrebbero finalmente una unicità vivente con due emisferi cerebrali cooperanti. Ilma, una svedese anomala, alta appena sopra il metro e mezzo, vegetariana, silenziosa, lasciò il corpo molto anziana. Nella sua lunga vita scrisse e disegnò sui suoi tacquini più di 25.000 pagine e produsse una tale quantità di tele da creare un problema di spazio al nipote e da non trovare nelle esposizioni sale sufficientemente grandi. Trent'anni dopo la nascita di Hilma Afklint e venti dopo quella di Maria Montessori, torniamo in Svizzera per celebrare la nascita di un'altra grande artista che trarrà dai mondi invisibili il fulcro e il tema della sua arte. Emma Kunz fu definita pittrice e guaritrice, naturopata, visionaria, che con le sue capacità extrasensoriali guariva le persone riequilibrando i loro livelli energetici e corpi sottili. Studiosa di scienze esoteriche come Hilma disegnò quelle che nella sua visione e intuizione erano le linee dell'energia usando un pendolo e riproducendo poi con la matita sulla carta millimetrata con un sistema che ad oggi non è stato identificato le linee che il pendolo tracciava. I dipinti di Emma erano mandala perfetti, disegnati e colorati per curare corpi e anime. Le forme geometriche per lei erano collegate all'energia elettromagnetica. Entrava in una specie di trance durante la quale dipingeva e quando terminava e tornava in sé lei stessa restava attonita di fronte al disegno prodotto. Emma attraverso i suoi disegni canalizzati ricevette l'informazione che le persone del futuro sarebbero state più collegate al loro sé superiore e questo le avrebbe portate ad avere maggior salute e spiritualità. Sono le creature che oggi vengono indicate come indaco e cristallo. Come per Hilma la matematica e la geometria sacra e la conoscenza del mondo naturale furono la base del lavoro di Emma. La sua attività di guaritrice prevedeva l'uso di piante fitoterapiche e minerali tra cui appunto la polvere di una pietra locale che lei chiamò Anion A. La grotta di Makun dove lei prelevava la roccia polverizzata che usava per le guarigioni è oggi conosciuta come grotta di Emma Kunz. Emma sosteneva che tutte le creature potevano fare ciò che faceva lei che si trattava di capacità innate negli esseri umani atrofizzate però dall'industrializzazione e dal materialismo cosa che lei aveva evitato vivendo a stretto contatto con la campagna e la natura e avendo conservato il rapporto privilegiato con la madre terra. Non si sa esattamente quanti lavori abbia prodotto perché molti non sono firmati né datati. Anche lei non considerava importante che il suo nome apparisse nei disegni giacché non li percepiva come arte bensì come scrittura delle linee energetiche che compongono l'universo attraverso le quali guarire individui e comunità. Mai avrebbe pensato che i suoi disegni potessero suscitare l'interesse di critici d'arte esperti di astrattismo poiché si considerava una guaritrice e aveva conoscenze in campo erboristico, biologico ed esoterico ma nessuna competenza artistica. Come Hilma, Emma affermava che il suo lavoro non sarebbe stato compreso fino al ventunesimo secolo. I suoi disegni ipnotici erano il suo modo di trascrivere ciò che il pendolo rispondeva alle sue domande sulla natura, sulla vita e sulla storia. A chi guarda con attenzione non sfugge l'analogia con i cerchi nel grano. Insistete molto sull'importanza del contatto con la natura per ritrovare l'armonia e l'equilibrio originario della vita che la guerra e l'industrializzazione avevano troncato. La sua ultima tavola rimase incompleta. Rappresentava una piramide della quale ella disse che aveva lasciata aperta la settima camera. Emma ha lasciato circa 400 disegni. Raggiunse successi terapeutici che spesso rasentavano il miracolo, definizione che lei stessa rifiutava tassativamente poiché attribuiva a se stessa solo la capacità di sfruttare e attivare le forze sopite in ogni individuo e riattivare le nostre innate capacità di autoguarigione. Fu soprattutto questo dono che nel 1941 le permise di scoprire il potere della famosa roccia curativa l'Anion A. A 46 anni iniziò a creare immagini di grande formato su carta millimetrata Emma descrisse così la sua opera figurativa creazione e forma espresse come misura ritmo simbolo e trasformazione del numero e del principio. Come scuola delle donne non possiamo non sentire un collegamento tra i suoi disegni e le tele di Hilma all'epoca già anziana. La criptica incommensurabile conoscenza da loro trasmessaci è ancora ben lontana dall'essere compresa spiegata con la mente ma forse è sufficiente osservare con il cuore le linee e i colori per lasciare accadere la guarigione dentro di sé forse Hilma e Emma avrebbero voluto proprio questo. Grazie a tutti.